Difficoltà a recitare con una maschera. Certamente fra le difficoltà maggiori vi è quello che l'attore non ha la mimica facciale. Bisogna recitare utilizzando la voce, pensando alla maschera che si ha. Se la maschera ha dei tratti di un serpente, probabilmente il personaggio è una persona vincita. Se ha le sembianze di una volpe, probabilmente il personaggio è una persona molto furba. Se invece ha dei tratti simili a quelli di un gorilla, probabilmente il personaggio è una persona molto forte e molto irruenta. Ciao a tutti, al prossimo video, vi aspetto!